Ecco, ci troviamo alla cittadella dello sport di San Buceto, frazione di San Giovanni Teatino per l'incontro di calcio, categoria Juniores, seconda giornata, Juniores provinciali, San Giovanni Teatino, Virtus Castelfrentano. La Virtus Castelfrentano gioca con la classica divisa giallorossa. Ecco l'ingresso in campo, il direttore di gara della sezione AIA di Chieti. Grazie. Grazie. Ecco, c'è la scelta della mette a campo o del pallone. Il sorteggio, il capitano e Nicolò. Ok, ragazzi, piazzatevi dopo. O piazzatevi per la foto, già ho detto all'arbitro. Piazzatevi per la foto, su, buono, che quella di lunedì faceva schifo. Su, scusate l'intermezzo. Nicolò, metti di da... Ah, ok, sta a porto.